Ho fatto un togno incredibile, ero al sabrage, accorato, sembrava vero. Ciao ragazzi, sono prontissimo, tra qualche minuto sarò sul palco, sento grande carica, grande calore, ma soprattutto grande accoglienza, meravigliosa. Che dire, grazie per essere venuti, grazie per avermi invitato e tutto questo è un sogno. Not everyone understands. 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 Mi diverto veramente tanto, ci sono tanti peggiovani. urine. Wow. finish. 好 clean. Maricola. Tu sai qualche problema, eh? Ma sabracci, a chi glielo dici sabracci? A me me lo dici È meglio, è meglio che Oh, sto parlando Abbassa lo sguardo Abbassa lo sguardo Abbassa lo sguardo Abbassa lo sguardo